Per lo sviluppo della generazione rinnovabile è fondamentale pensare a nuovi sistemi di accumulo di energia elettrica. La business unit termoelettrica è impegnata nella realizzazione di impianti basati su batterie e le ioni di litio che garantiranno al sistema elettrico nazionale la necessaria flessibilità operativa permettendo di compensare l'energia degli altri impianti di generazione rinnovabile fino a 8 ore. Realizzeremo gli accumuli elettrochimici nei terreni limitrofi e le nostre centrali termoelettriche per far leva sulle infrastrutture già presenti per il collegamento alla rite nazionale in modo da ridurre tempi e costi. I nostri sistemi di accumulo uniti alle tecnologie già attive ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione.